E andiamo ragazzi abbiamo vinto anche contro la Salernitana vittoria importante perché perché tutte le partite sono importanti ovviamente e non ci hanno dato nemmeno il recupero perché secondo me potevamo segnare perché alla fine dopo i cambi abbiamo continuato ad attaccare e con i cambi eravamo un po' stanchi no? Sarri ha messo dentro qualche nuovo giocatore no? che non c'era fino a prima che entrasse giustamente e quindi ha dato veramente una nuova vita se si può dire e quindi ci abbiamo riprovato però mi dispiace ecco perché magari mi sarebbe piaciuto vedere anche altri gol quindi se ci dava qualche minuto di recupero vabbè pazienza non mi lamento eh ragazzi quindi noi sappiamo che siamo tutti figli di Dottito No dai a parte gli scherzi lasciamo da parte tutto quel discorso noi abbiamo vinto abbiamo portato a casa i tre punti abbiamo giocato bene ci sta però la Salernitana ragazzi oh ma con tutto rispetto della Salernitana ma come ha giocato ma è scesa in campo a fare cioè Ribery ha preso un palo e dopo basta cioè cosa ha avuto niente? Cioè noi vabbè complimenti alla Nazio ok però non è che abbiamo fatto chissà che partita ma la Salernitana sembrava che gli avessero detto quasi non adesso non guarda spero che non abbia detto nulla a nessuno e spero che nessuno di voi pensate a questo però mi viene da pensare che qualcuno gli abbia detto non giocate perché cioè ragazzi un po' di cattiveria niente proprio non ce l'avevano i contrasti tutti nostri e Immobile non mi è piaciuto tantissimo oggi eh a parte il gol poi verso la fine ha preso un palo purtroppo però è un peccato perché in questa partita cioè uno come lui deve segnare di più cioè lui che siamo abituati che segna tantissimo diciamo che doveva segnare di più ha spiegato troppe occasioni poi è stato proprio sempre preciso poi Milinkovic bene gli altri ecco bene ma la difesa bene ma ragazzi eh la Salernitana è una poca roba oggi e quindi ecco abbiamo vinto sono contento e c'è poco da dire per questa partita Sarri ha fatto dei cambi ehm che ci stanno giusti secondo me per far rifiatare anche Milinkovic e Felipe Anderson che comunque ci sta e poi eh arrivando se parliamo della partita in generale eh non è che abbiamo creato chissà cosa intanto siamo andati in vantaggio anche comunque ha segnato il terzo gol ehm anche Luis Alberto Luis Alberto che si sblocca e quindi ha fatto una buona partita lui mi è piaciuto Cataldi anche e ha segnato ripeto Immobile e eh anche eh il signor Pedro Pedro che sta ritrovando molti gol in quest'ultimo periodo e ma qua vediamo ragazzi una difesa orrenda orrenda da parte del della Salernitana nemmeno quando sono compatti tutti dietro riescono a essere solidi sarà perché era questa partita la la sentivano in una maniera particolare in maniera strana però cioè non è che adesso posso essere tantissimo cioè tanto felice per sta vittoria poi adesso iniziamo veramente adesso che dopo eh prossima partita di campionato sarà contro la Juventus vediamo veramente ecco questa squadra come si comporta anche se contro le big noi facciamo sempre bene anche se ripeto che eh non diamo la Juventus fuori dalla corsa eh per la Champions perché ed è resta sempre una big quindi noi in teoria queste partite eh le giochiamo bene la continuità c'è stata non abbiamo subito gol ed è importante abbiamo preso i tre punti quindi oggi sono felicissimo però ripeto eh grandi demeriti vanno alla squadra alla squadra della Salernitana che eh secondo me farà fatica a salvarsi se giocherà sempre così come ha giocato contro la Lazio ma non credo allora non eh succederanno a mio parere anche se comunque c'è anche il Cagliari e altre eh che rischiano fortemente ritornando a noi alla Lazio cosa possiamo dire? Eh niente perché c'è poco da dire nel senso che abbiamo creato molte occasioni e quando siamo entrati la prima mezz'ora hanno retto abbastanza bene con una difesa compatta però noi diciamo che eh non eh eravamo una squadra che eh che abbiamo eh fatto nel contropiede un'essenza no per questa partita perché abbiamo tenuto molto possesso palla abbiamo fatti correre e stancare noi invece ci siamo anche giustamente riposati visto che veniamo da eh una partita eh di giovedì eh molto difficile in uno stadio difficile complicato e caldo quindi eh abbiamo fatto bene ci siamo anche riposati almeno io la penso così non tanto i calciatori che sono scesi in campo ma potevano eh usare molte più energie eh mi dispiace ripeto per immobile perché doveva e poteva segnare di più eh siamo stati un po' sfortunati non credo comunque 3 a 0 eh partita chiusa partita che è ormai già nel primo tempo abbiamo messo in cassaforte nel secondo tempo siamo entrati un po' con più tranquillità ma abbiamo giocato lo stesso con rapidi tocchi eh sempre un po' troppo eh ehm Luiz Alberto eh tocca sempre un po' troppo il pallone ma eh diciamo che se quelle sono le sue caratteristiche eh è come il carattere di una persona è difficile da cambiare se lui è così però tutto sommato abbiamo fatto una buona prestazione e sono contento e sempre a forza d'altro nel bene e nel male arrivederci